Il caffè al bar è un rito per milioni di italiani, che a breve potrebbe anche arrivare a costare 1,50 euro. Notizia che desta preoccupazione tra i consumatori, anche perché se un tempo si fosse paventata la possibilità di un caffè al bar venduto a quasi 3.000 delle vecchie lire, in tanti avrebbero strabuzzato gli occhi. Al momento la sede nissena del sindacato di settore dell'ASCOM, che rappresenta gli operatori della ristorazione del territorio, non registra conferme sul possibile aumento di prezzo della tazzina di caffè. In ogni caso il presidente ASCOM Sicilia, Francesco Trainito, ha sottolineato che l'aumento del costo delle materie prime sta mettendo in serie difficoltà il monto imprenditoriale da un lato e dall'altro anche i consumatori, che da parte loro vedono diminuire il proprio potere di acquisto a causa dell'inflazione. Trainito ha ammesso che aumentare i prezzi non è certo la soluzione per aiutare un sistema come quello italiano e ha lanciato alla politica un appello per aumentare gli strumenti per il sostegno a famiglie e imprese, in modo da evitare una nuova recessione economica, che potrebbe avere conseguenze disastrose.